Ma da quel che leggo e da quel che ho capito, credo che ci siano cose da giustare, francamente. Benissimo la riduzione delle aliquote più basse, ma io sono preoccupato di due cose. Una si chiama sanità, perché è un conto se parliamo di regione, come parliamo di sanità. E credo che ci sia da dare un'occhiata molto precisa agli effetti che i tali sulla sanità possono provocare e provocheranno. Secondo cosa che non è emersa, mi pare, sui giornali ancora, voglio capire bene la questione della scuola. Perché temo di sbagliarmi, ma temo di non sbagliarmi. E sotto la parola ingegnerizzazione, parole molto complesse, io ci leggo il taglio di 6.300-6.400 posti di lavoro per gli insegnanti e ci leggo il fatto che gli insegnanti di sostegno nelle superiori devono far più ore di un insegnante di latino o di matematica. Quindi su questi punti noi vogliamo chiarimenti e siamo anche pronti a intervenire eventualmente per delle correzioni. Per il resto guarderemo naturalmente le norme, perché siamo solo le prime notizie.